Dopo il successo dello scorso anno, torna da oggi a domenica Como Anni Felici la fiera dedicata alla terza età e non solo. In piazza Cavour una grande tenso struttura ospita prodotti e servizi per migliorare la qualità della vita della terza età, ma anche idee proposte per una partecipazione attiva dell'anziano alla vita sociale e culturale del nostro territorio. Ad animare queste tre giorni è un divertente calendario di eventi ludici e di intrattenimento, rivolti non solo al visitatore anziano, ma anche a un pubblico più eterogeneo. Esibizioni di ballo, musica dal vivo, tombolate, tornei di scala 40, gioco del musichiere, lezioni di ginnastica, teatro, un ricchissimo programma di incontri tenuti da professionisti e medici. Inoltre la presentazione da parte dell'assessorato alla sicurezza del Comune di Como dell'assicurazione gratuita Over 70 Como Città Sicura.